Roberto Snyder, Presidente Federlingo Arredo. Allora, questo salone sta riuscendo a dare una scossa alle aziende, la situazione è un po' di stallo? Guardi, questo salone cade in un periodo purtroppo non molto felice per quanto riguarda l'economia italiana. Abbiamo cercato di dare una risposta per il nostro settore e il lavoro svolto in questo anno penso che abbia dato i suoi frutti. Ritengo che perlomeno questa presenza molto significativa delle presenze di visitatori esteri sia la risposta a questa sua domanda. Quindi qual è la sua soluzione per la ripresa dei consumi? Guardi, la mia risposta per la ripresa dei consumi. Io recentemente ho chiesto se era possibile inserire un'IVA agevolata per quanto riguarda la prima casa per i giovani. Questo per due motivi. Il primo, per aiutare questi giovani a fare un investimento per la propria casa. Il secondo, per uniformarci a quelle che sono già le regole esistenti in altri paesi in Europa. So che è una richiesta che sarà difficile che possa essere accettata, però quello che noi dobbiamo tentare comunque di avere il governo come interlocutore, di richiedere perché il nostro settore è in profonda crisi sul mercato interno. Sul mercato estero ha un discorso diverso perché siamo in crescita e quindi è molto interessante. A proposito del mercato estero, ci sono paesi che partecipano, Cina, Brasile, ne stanno nascendo collaborazioni? Guardi, fra poco qui su questo tavolo arriverà l'ambasciatore del Brasile con cui vogliamo iniziare un percorso comune. Bisogna capire che in questo paese abbiamo delle tasse di importazione del prodotto molto alte. Cercheremo di invitare il governo brasiliano a rivedere quelle che sono le caratteristiche. Con la Cina ieri abbiamo avuto diversi interlocutori con cui stiamo discutendo, quindi direi che sull'estero stiamo proseguendo abbastanza bene.